buongiorno a tutti oggi presentiamo la nostra linea del camouflage bianco abbiamo fatto un nuovo pantalone modello san candido materiale elasticizzato idrorepellente e traspirante modello molto morbido e comodissimo proprio anche dei movimenti adatto a chi cammina tantissimo super traspirante e con una vestibilità molto asciutta ma comoda come dicevamo materiale come vi dicevamo in una colorazione roccia chiara dove abbiamo anche l'abbinamento con giacche o volendo il pai che è il modello pixel roccia chiara pantalone torniamo sul pantalone a quattro tasche tutte sempre si ergonomica elasticizzata se sul materiale elasticizzato che diventa sempre traspirante presagomazione sul discorso ginocchio gancino sul fondo per agganciare che lo vediamo meglio sullo scarpone per agganciare qua in fondo sullo scarpone quindi si va a camminare sia nella neve sia in mezzo all'erba un cespuglio il pantalone rimane fisso e non sale taschina anche dietro sempre con cerniera pantalone come dicevamo molto comodo e traspirante e ricordatevi abbiamo più linee di camouflage ormai siamo specializzati anche sui vari camouflage di un po tutti i tipi